Voglio salutare i fratelli Fabio e Massimiliano Nucci, vi invito ad alzarvi, figli del compianto Vincenzo Nucci, artista di Sciacca, alla cui memoria vi chiedo di dedicare un applauso. C'è stato anche un omaggio alla memoria del pittore Enzo Nucci nel corso della prima puntata della nuova stagione di Vespera al Cinema, l'approfondimento giornalistico di Telemonte Cronio che ieri alla multisala Badia Grande ha riaperto i battenti. Tema del partecipato dibattito, l'importanza della cultura nella crescita del territorio, i diversi punti di vista che si sono succeduti hanno evidenziato la voglia del territorio di completare un riscatto dal cammino tuttora ancora incerto. Sciacca è il polo scolastico per tutto il territorio, il che vuol dire che un polo scolastico significa giovani, significa studenti e quando smettero di essere studenti sono giovani. E' un posto dove si legge tutto l'anno, dove ci sono delle persone che leggono tutto l'anno, il gruppo di lettura di, io dico di Rossana Puccio, ma sappiamo benissimo che non è di Rossana Puccio, ma di tutte le persone che sono all'interno di quel gruppo. Ma il fatto che l'esistenza di un gruppo di lettura è indicativo? È indicativo e del fatto che ci siano due librerie in una città come Sciacca, per fortuna. Durante la prima puntata di Vespera al cinema, impreziosita dalla musica classica eseguita da Paolo Scanabissi e da un brano blues proposto da Mirko Di Stefano, sono venute fuori proposte idee che puntano a far sì che finalmente si alzi l'asticella del livello medio. Io posso dire che sono la testimonianza che si può vivere di cultura, io vivo di cultura. Io gestisco musei, organizzo mostre, presentazioni di libri e quando sono libero vado a suonare la batteria, quindi nella vita io vivo di cultura. A rappresentare un esempio di riscatto nel segno della cultura è stato Alessandro Cacciato, il quale ha raccontato la storia della Cultural Farm Park di Favara, diventata la seconda attrazione turistica della provincia dopo la Valle dei Templi. A un certo punto, dopo un evento drammatico, lo ricorderete, un crollo, un implosione di una palazzina che ha visto due giovani vittime, e allora lì ha scosso la coscienza della comunità di Favara e oltre e Andrea e Florinda hanno scelto di investire in questo posto. Però dobbiamo immaginarci come una persona che viene da fuori, è comunque un notaio, quindi ha una professione abbastanza remunerativa, viene anche immaginata come una sorta di luogo al di fuori da quella che è la quotidianità, e dice io qui voglio fondare un centro culturale indipendente e farlo diventare la seconda attrazione turistica della provincia di Agrigento. Vespera al cinema andrà in onda a partire da sabato pomeriggio alle 14.45 dopo la prima edizione del telegiornale e verrà replicato per l'intera settimana. Mercoledì pomeriggio torneremo in Sala degli Archi per la seconda puntata della nostra trasmissione. Grazie a tutti.